cari amici di un tè con elena buongiorno quasi buon pomeriggio perché ormai sono le due di una domenica con un sole che non vuole ancora cedere all'autunno benché siamo a fine agosto allora carissimi bentornati ben ritrovati spero che vi siano piaciuti i precedenti video e vi invito come sempre mettere like al video guardateli spero con piacere e se vi va di iscrivervi al mio canale su youtube che si chiama un tè con elena oggi sono in vena un po delittuosa criminale per cui vi ho portato un libro che a me è piaciuto di newton compton collezione i volti della storia gli autori sono diego giuliani e sabrina ramacci libro che non costa neanche moltissimo costa 9 9 euro e 90 sapete che newton compton fa pubblica molti libri nelle versioni economiche molti di divulgazione allora questo libro si chiama c'era una volta hollywood criminale hollywood chi fra noi non ha sognato la mecca del cinema quello che ha dato origine al gran circo della cinematografia io amo molto il cinema mi piacciono anche i vecchi film in bianco e nero il cinema ormai ha una lunga storia a partire dalle prime proiezioni fratelli lumière vi ricorderete a parigi se non erro quando gli spettatori che per la prima volta vedevano questa locomotiva sbuffante sullo schermo scapparono fuori terrorizzati perché pensavano che davvero una locomotiva stesse entrando in sala in realtà il cinema è andato avanti anni luce da allora no mi scusate il calambur mi è venuto in mente anche l'istituto luce magari qualche volta ne parleremo che ha una raccolta incredibile con delle chicche sulla storia d'italia meravigliose hollywood è cos'è è tutto è fantasia e creatività e immaginazione i migliori talenti hanno contribuito a produrre dei film meravigliosi e parlo di scrittori per le sceneggiature parlo di artisti per i costumi per le scenografie parlo di attori immensi che ci hanno accompagnato che continuiamo a ricordare io penso ai più recenti anche dopo la morte penso a un fantastico robin williams troppo presto scomparso prendo penso anche i nostri attori fantastici io ripeto amo i film in bianco e nero il neorealismo pensiamo a sordi gasman lamagnani che per me è stata una un'attrice di una di uno spessore di una profondità e di un'umanità incredibili pensiamo alle nuove frontiere del cinema ormai con la tecnologia il cinema al cinema vediamo cose fantastiche vi ho detto nei precedenti video a me è piaciuto molto l'ultimo dei minios minios 2 pensiamo al cinema d'animazione ma qui torniamo invece su un aspetto di hollywood che è la grande madre del cinema un aspetto che comunque inquietante ma che ha sempre accompagnato sin dalle origini hollywood è nata agli inizi del 1900 col muto col bianco e nero ma già dagli inizi hollywood è stata da subito anche la capitale delle esagerazioni dei vizi dei peggiori vizi sesso droga orge festini corruzione e questo libro che vi ho portato che in realtà come pensiero non è poi così originale vorrei ricordare due volumi di kenneth mi sembra anger hollywood babilonia e hollywood babilonia 2 dove hollywood viene narrata non attraverso la storia delle sceneggiature i grandi film che appunto hanno fatto la storia di questa arte ma attraverso appunto i fatti criminosi i grossi scandali che hanno accompagnato i protagonisti della storia del cinema perché i divi si sa e hollywood è stata adesso abbiamo anche altri tipi di divi i cantanti della musica rock della musica pop anche gli youtuber i divi del web ma in realtà per lungo tempo i veri divi sono stati protagonisti della scena hollywoodiana all'epoca si sognava appunto con i grandi attori le grandi attrici ma le loro vite spesso sono state costellate da drammi da tragedie da vizi inconfessati e inconfessabili e da morti tragiche tutti noi ricordiamo le morti tragiche vabbè purtroppo girava anche un video anzi un video scusate mi ricordo quando è morto robin williams purtroppo per qualche giorno sul web circolava la foto del cadavere di robin williams poi si arriva a un guaiorismo disgustoso in cui non c'è più rispetto per l'essere umano ma il divismo ahimè fa sì che qualsiasi cosa un divo viva abbiamo in mente foto di divi ripresi senza trucco quando vanno a fare la spesa allora ah ma senza trucco sembra una casalinga in realtà qui stiamo parlando di grandi fatti di cronaca che hanno coinvolto questi divi di hollywood in c'era una volta hollywood criminale si raccontano una serie di storie tra l'altro c'è anche una bella a metà del libro circa c'è un buon contenuto fotografico di immagini di hollywood all'inizio la scritta avete presente quella scritta sulle colline che circondano hollywood è nel nostro immaginario nell'immaginario di tutti all'inizio era hollywood land ci fu un'aspirante attrice che credo insomma non abbia poi avuto molto successo all'inizio che fece scalpore perché si suicidò nel 1900 qualcosa all'inizio proprio buttandosi dalla scritta abbiamo tutte queste foto vedete dei protagonisti di queste cronache di nera queste true crime story come le chiamano adesso abbiamo anche qualche foto un po più forte per esempio del di alcune vittime la famosa elisabeth short black d'aglia io non vi non vi racconto le singole storie vi invito a comprarlo si parla anche dei massimi divi pensiamo alla morte di marylin morrow che dopo tanti anni resta un mistero se suicidata sappiamo che soffriva di depressione che abusava di farmaci o forse come alcune voci dicono è stata eliminata dalla mafia in combutta con la casa bianca perché frequentando il giro dei kennedy e red pack ve lo ricordate di vari attori che giravano amici di dei kennedy tra cui frank sinatra sapeva segreti che non dovevano essere rivelati si parla della morte di di marylin di james dean icona ancora oggi del cinema la famosa gioventù bruciata si parla della triste vicenda della famiglia di marlon brando dove i figli complotto di sangue il figlio e la figlia uccisero il fidanzato della figlia a partire addirittura dai primi casi un famoso lo chiamarono il party degli orrori in cui un aspirante attricetta morì a seguito di un party chiamiamolo scatenato probabilmente un orgia in cui c'era questo famosissimo attore allora del muto un era caratterizzato dalla sua da una parte goffagine e dall'altra fantastica capacità di ballare pur essendo obeso fetti harbacol fetti perché appunto vuol dire grassone insomma è un libro semplice dove andiamo a riscoprire aspetti terribili della storia dei divi preferiti alcuni ormai passati nel dimenticatoio tipo fetti harbacola all'epoca era una star ora quasi nessuno sa più chi è ma altri che sono rimasti come appunto marylin monroe james dean la famosa vicenda di sharon tate che fu assieme ad altri suoi ospiti in questa bellissima villa di bel air fu fu un macello un massacro ad opera di manson il famoso charles manson da cui peraltro il cantante rock marylin manson prese il cognome charles manson e la sua femmini sono episodi che sono rimasti nella storia non solo americana ma nell'immaginario di tutti noi chiamiamo il cinema vi ricordo ancora il titolo del libro hollywood criminale oggi breve perché una giornata per me un po convulsa perdonatemi avrò più tempo nei prossimi giorni per caricare altri video con questo vi auguro una buona domenica pomeriggio vi invito a mettere like se il video vi è piaciuto soprattutto iscrivervi al mio canale youtube che si chiama un tè con elena e detto ciò con un po di sangue e di true crime vi saluto a presto